Care concittadine, cari concittadini, il 27 settembre siamo chiamati a votare sull'iniziativa per la limitazione. L'iniziativa chiede di denunciare la libera circolazione delle persone con l'UE, qualora non sia possibile negoziare la cessazione dell'accordo entro un anno. Se denunciamo l'accordo sulla libera circolazione, perdiamo anche lì altri sei accordi dei bilaterali uno, e questo in modo automatico. Infatti questi accordi sono giuridicamente vincolati tra di loro. Grazie agli accordi bilaterali per i quali abbiamo condotto negoziati per sette anni dopo il no allo spazio economico europeo, la Svizzera è in grado di percorrere una via autonoma in Europa. Questi accordi ci permettono di salvaguardare i nostri interessi nazionali senza aderire all'UE e la nostra economia ne ha tratto e ne trae grande vantaggio. Come ogni accordo, anche quello sulla libera circolazione delle persone non ha solo vantaggi. Per noi è chiaro, vogliamo limitare l'immigrazione allo stretto necessario e vogliamo proteggere i salari del nostro paese. Per questo motivo abbiamo puntato sin dall'inizio sulle misure collaterali. Nel contempo favoriamo i lavoratori residenti in Svizzera, in particolare quelli più anziani. Provedimenti formativi mirati contribuiscono a mantenere la loro competitività in un mondo del lavoro che cambia rapidamente. Inoltre il Consiglio federale e il Parlamento intendono concedere una prestazione transitoria fino al pensionamento ai disoccupati di età superiore ai 60 anni che hanno esaurito il diritto all'idenità, hanno lavorato per molto tempo e dispongono di un patrimonio modesto. Tutto questo a garanzia della loro sussistenza. Cari concittadini, la nostra economia deve tornare rapidamente agli ottimi livelli precedenti la crisi del coronavirus. Per raggiungere questo obiettivo le nostre imprese, in particolare quelle piccole e medie, devono poter contare su rapporti sicuri con l'UE, il nostro partner commerciale più importante. Questo non è il momento di fare esperimenti. La Svizzera ha bisogno di stabilità e sicurezza. Entrambe sono oggi garantite dagli accordi bilaterali. Il 27 settembre siamo chiamati a decidere su un'iniziativa che mette in questione la consolidata via bilaterale e buoni rapporti con i nostri vicini. Questa iniziativa mette a repentaglio la libertà e la prosperità della Svizzera che abbiamo duramente conquistato negli ultimi decenni. Rapporti solidi e l'accesso privo di ostacoli al mercato del UE sono imprescindibili più che mai. Per tutti questi motivi il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare no all'iniziativa per la limitazione.